Grazie 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 più come una volta no, a me me la faceva mi guardava però non mi faceva scazzare a me la faceva no, no, no no, no, no no, no, no da quando è successa questa cosa? no, no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 ah ah perchè stai sempre lì? ah no 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 ma guarda che ci andiamo con lui un proiettivo in america che mi fa impressionare prima seconda ma capito quella che c'è ma hai modo da grossa no, tu sai il volante sta qui ma io lo vuoi dire no, tu lo faccio dire allora posizioni, cardenzi, scintuspio, maglio calato, capuano, abitura, magno, barbello allora io non ho fatto più ma io non ho fatto più ma lui cerca ma lui è da figlio ma io son io ce l'ho fatto io io Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.